Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto dei testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare oltre alla certificazione ISEE un documento sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Questo è scritto nelle istruzioni per il richiedente nel sito della Regione, con termine di presentazione per le domande entro il 15 ottobre alle 12. La norma, come fa notare in una mozione alla Giunta, il gruppo del Partito Democratico, non è però presente né nella delibera di Giunta né nel bando per la concessione dei contributi. L'erogazione del buono libro si tratta di 300-400 euro se lo studente frequenta le superiori, ripeto sono 26 mila alla fine quelle domande che sono state fatte l'anno scorso, gli ex comunitari sono stati 7 mila l'anno scorso, quindi anche in proporzione famiglie disagiate che hanno bisogno di questo contributo, ma è un diritto all'istruzione che può essere compromesso da questo regolamento che non viene neppure citato nella delibera amministrativa che la Giunta approva, ma viene successivamente inserito nel momento in cui fai la domanda, devi compilare il modulo. Noi chiediamo di fare chiarezza che non saltino contributi perché non è possibile farsi dare dal Consolato dall'ambasciatore la documentazione che uno non ha beni nel proprio paese d'origine, oppure che ci sia ritardo, oppure che magari uno ha un bene nella propria terra d'origine, ma questo supera l'ISE e se si supera l'ISE vuol dire che non hai più diritto al contributo, cioè i comuni sono in totale confusione, quindi noi chiediamo di fare chiarezza e di fare una norma che non discrimini. I timori che ci sia una discriminazione in atto sono forti anche da parte della CGL che dopo quanto accaduto all'Odi per i buoni pasto si rivolge alla Regione chiedendo di intervenire per due motivi. Vedere una certificazione ulteriore e diversa per i soli cittadini extracomunitari è illegittimo, tra l'altro non è nemmeno previsto dal bando che è stato approvato dalla Giunta regionale stessa. La seconda di sostanza, non vorremmo che attraverso questa iniziativa si volesse in qualche modo alimentare l'intenzione di discriminare una quota di alunni sulla base della loro cittadinanza e della loro provenienza, perché questo sarebbe davvero intollerabile, come sta succedendo ad esempio a Lodi. Allora noi diciamo, sgombriamo il campo da questa volontà, non abbiamo bisogno di alimentare divisioni e discriminazioni e soprattutto noi diciamo a tutti coloro che avessero intenzione di alimentare questo tipo di atteggiamento giù le mani dai bambini e dalla scuola. Noi siamo in Veneto, la scuola è proprio il terreno in cui in tutti questi anni si è costruito un modello avanzato e positivo di integrazione e di coesione che non può essere in alcun modo messo in discussione da atteggiamenti di questo tipo, che sono sempre inaccettabili ma lo sono ancora di più quando sono rivolti verso dei bambini.